Il sindaco di Chieti ha firmato un'ordinanza che per tutta la stagione calcistica amplia a 500 i posti della sezione ospiti dello Stadio Angelini. Il provvedimento efficace già da oggi sarà rodato domenica con la super sfida Chieti-San Benedettese in programma alle 14.30. Intanto si è aperta oggi pomeriggio la vendita dei biglietti ai non abbonati. Inoltre i tagliandi della Curva Volpi sono acquistabili esclusivamente nella sede degli 89 Maidomi. Si ricorda anche che per l'occasione la società ha indetto la giornata nero-verde per cui non saranno validi gli abbonamenti. Ai tifosi ospiti sono stati riservati 500 biglietti. Infine per quel che riguarda l'allenamento il gruppo squadra si è ritrovato a Manoppello. Difficili i recuperi di Ardemagni, Benigni e Diambò. Tornerà invece a disposizione d'Ancora. Chianese potrebbe confermare l'undici che ha vinto a Riccione con ballottaggio a centrocampo d'Ancora-Mercuri. Ascoltiamo proprio quest'ultimo sulla sfida di domenica. Mi aspetto un ambiente bellissimo con tanta gente allo stadio, non ho dubbi. Quindi è una partita bella da giocare, però penso che sia una partita come tutte le altre. Perché ogni partita ha le sue difficoltà. Quindi dobbiamo giocare tutte le partite al massimo, senza rimpianti. e cercare di dire la nostra su ogni campo, contro ogni squadra. Beh, la San Mettese è una squadra con giocatori molto importanti, ma come anche Riccione domenica scorsa. Quindi credo che dobbiamo affrontare la partita pensando a noi, a quello che dobbiamo fare, all'atteggiamento e a come stare in campo e lottare fino alla fine. Grazie. Grazie.